questi sono gli innesti su pterocaria fraxinifolia vediamo di mettere a fuoco bene come vedi quella gemma è gonfia anche questa è gonfia vediamo di metterlo a fuoco e questa è anche meglio la vedi lì questa è pterocaria piano piano ti faccio vedere un po tutto anche quello è gonfio quello sta gonfiando lo vedi di là questo invece questo è yuglas nigra eccolo qua anche qui abbiamo gli innesti che stanno gonfiando uno è lì un altro è lì un altro è la è quello l'ultimo vediamo questa è la canzura l'anno scorso rigogliosissima quest'anno da vomito